Ciao a tutti sono SpigaRontato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su Techcraft, siamo alla puntata numero 11 Allora, eravamo rimasti all'orticello dovevo creare una nuova ove Abbiamo degli stick, la risposta è sì, prendiamo due pezzi di cobblestone Facciamo così, così, ove Perfetto, andiamo a hoare tutto, hoare tutto baby Queste sono cresciute, aspetta, erano così tante? Sì, evidentemente sì Non mi carica il mondo, vabbè, dettagli, là in fondo, e ce lo so farlo, non vi dico nient'altro Quindi sono tre giri, perciò, perciò Tanto non serve a niente farlo gigante se poi non funziona bene Ok, allora, 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 qui pianteremo Credo quelle, come si chiamano, le copie del grano Queste mi danno fastidio, non posso evitare di toglierle Purtroppo Sono fatto così Sono troppo perfettino in alcune cose Va bien, todo bien, todo bien Ok, facciamo anche qui un pochino almeno, non dico tutto, ma un pochino Ok, poi dopo la natura fare il suo corso Oppure lo farò io con questa Vi dà fastidio, scusate Credo di avere una malattia Sono troppo pignolo Poi non in tutto, in alcune cose basta Allora, allora, allora Mi avete chiesto, tra l'altro Di studiarmi le mod Ma no, no Per la prima volta in tutta la mia vita Voglio un po' improvvisare Con queste mod Voglio scoprirlo nel momento Cioè, la maggior parte delle mod almeno È ovvio che mi informerò un minimo Però, un minimo Non di più Non ho preso i semi Porcaccia Però abbiamo entrato in emergenza O meglio, abbiamo adesso Non c'è mistata Ma adesso sì Quindi, quindi, quindi Quali sono? Quali sono? Barley? Sì Barley, Barley, Barley Abbiamo un Barley Yes Ok, sì, è bello No, era per essere sicuri Perché Certe volte sbaglio anch'io Ok, basta Sbaglio sempre io Facciamo I soliti 3G Sto facendo questi orticelli così Perché sono comodi Naturalmente poi li autorionizzeremo Adesso siamo all'inizio ancora Ma entro 1 o 2 puntate Avremo già tipo Il palazzo in diamante Sono già finiti Però sto crescendo veloce Ok, facciamo un pochino di Il bombil Porcaccia la puttanella Sbronmil Sbron Sbor Sbormil Sbor Sbor Eccolo qui Lo mettiamo qui Andiamo, andiamo, andiamo 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 a lavorare Spero che vi piace anche la La nuova serie di Dead Space Dead Space, yes Perché a me piace un casino Nonostante il gioco sia vecchio Eh, vabbè Innanzitutto ho deciso di iniziare Dalla prima Dal primo capitolo Perché Iniziare dal Dal terzo Che ne so Non avrebbe avuto senso Eh, vi anticipo Che io Avevo già giocato a quel gioco Solo che Molto tempo fa Tipo quando è uscito Eh, non mi ricordo Cosa ho mangiato ieri notte Figuratevi Il gioco Perciò È per quello che mi spavento tuttora Cioè non mi ricordo niente Proprio niente Neanche gli obiettivi Mi ricordavo L'unica cosa che mi ricordavo Era l'inizio Eh, proprio L'inizio, inizio, inizio A questo punto cresce Che si rompa adesso Eh, perfetto Torniamo a casa Torniamo a casetta Cos'altro possiamo piantare? Ah, giusto I cosi Il strawberry Però questi sono da piantare Tipo Senza aggroare la terra Quindi Posso farlo anche adesso Ci vuole l'acqua? No No, no Erano in mezzo alle palle Prima Quindi Puliamo un po' la terra La terra Oddio Lo spazio che ci serve Ecco Come si fanno i semi Ah, allora è da gruare la terra Ok, ci vuole l'acqua Va bene, mettiamo un po' d'acqua Però gliela mettiamo a scorrimento Come si suol dire A fare un po' di scena Sapete Se sono sette blocchi Siamo a posto Se sono meno di sette blocchi Siamo a posto Allora Allora la hoe Eccola qui Seminiamo Ma sbaglio Crescono velocissimamente Facciamo maturare tutti Così sono molto carini Vorrei fare anche uno screenshot Così magari inizio a mettere le copertine Ma giusto così per dire Le miniature scusate Perché non le metto da una vita Ma Ma è più Più che altro perché me ne dimentico Cioè Mi sono dimenticato all'inizio di fare la roba Il progetto su Su Photoshop Perciò non l'ho fatto Semplicemente Cioè poi Puntata dopo puntata Ho detto Va bene, è mancano troppe Non ne voglio di farle tutte Invece poi Probabilmente lo farò Perché sono un pignolo Mi farò tutte le copertine da capo Le miniature Da capo Perfetto Perfetto Questa la possiamo raccogliere Intanto si raccogliono facile Ok C'è qualcos'altro appunto Da piantare Credo che la risposta sia No Ah Raccogliamo anche le cannone a zucchero Quanto è dura la vita campagnola Da campagnola Ok Andiamo a fare la nanna Perché è quello che ci serve Poi ci scarichiamo Tutta sta roba E vorrei iniziare qualche mod Interessante che non conosco Tipo la tinker Perché Sì Sì perché sì Vi basta come risposta Allora Innanzitutto Buttiamo tutta la roba Che non ci serve più E c'entra con la Natura Così No Questo non c'entra niente con la natura Dai Dai da bravo Abbiamo legno Ok Questo lo mettiamo qui Strumenti Ok Minerali Ok Dobbiamo mettere i cartelli Strumenti Avrei dovuto riempirlo questo E se i chi voti non mi piacciono Ma che bello Ma che bello Voglio mettere una Una texture pack Perché mi piacciono le texture pack Sapete Mi servono esattamente Due Quattro Sei cartelli Sei cartelli Quindi apriamo un po' di legno No Non così tanta Infatti Dieci E ho anche molto esagerato Credetemi Molto 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 Esagerato E trasformo tutto in legno Facciamo un po' di stick Così Ok Questa roba la portiamo via Ah vediamo un pochino Tipo Chest Vediamo se fa anche qui C'è anche Ah ci picchia Nella ME Nella Play of Energistics Quando c'è tipo Ho il materiale qui Faccio così Faccio così Calco qui E metto il materiale in automatico E pensavo Magari lo fa con questo Mettendo il materiale lì No Peccato 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 Mettiamo questo qui Qua cosa dobbiamo mettere Eletronica Roba Ok Allora 1 2 3 qua 5 6 7 8 Sto facendo così Perché così È più È attaccato molto al bordo In modo tale che posso scrivere qua Elettrica Così È sempre un cartello unico Cioè è sempre una cosa unica Roba elettrica Poi qua cosa abbiamo messo Tinkers 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 Contract Ok Ce la farò Abbiamo tre spazi Quindi 1 2 3 Tinkers Construct Construct Qui abbiamo Apicultura Roba apicultura No Roba api Come si può chiamare Materiale api Sì Tre spazi Quindi 1 Quindi 1 2 3 Ok Materiale Api Perfetto Oh Bladi Oblada Ok Allora 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 Vediamo un pochino Vorrei iniziare a fare l'energia Però non mi sento ancora pronto Eh Perché Non mi sento ancora pronto Punto Qui è cresciuto un po' di cosa Ma adesso non abbiamo Grossa necessità di cibo Dai Parliamone Allora Innanzitutto vorrei Eh Sì Allora Iniziamo dall'energia Facile Quindi Engine Però scritto così Perché sono pignolo Allora Voglio iniziare dall'engine Quello dell'altra volta Quello che stavo facendo Eh Prima che Eh Prima che Del coso Il pack Decide se di rompermi con gli otteri Eh Era il No Electrical combustion Stirling Redstone Industrial Steering Engine Commercial Bla 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 Eh ma Non lo so Esattamente Non lo so Eh Dovrei inform Ah giusto Prima dobbiamo fare un'altra cosetta Dobbiamo trovare lava Mi serve lava Quindi scaverò con voi Allora Andiamo a trovare lava Eh Poi vi spiegherò cosa dobbiamo fare Ma non prima Di aver trovato la lava Mi hai già detto Ma Quale crescono ogni tanto così Oppure Sono io che non l'ho vista Perché mi ricordo che Tipo nella prima puntata di questa nuova mappa In questa montagna ne ho raccolto un casino Le avevo raccolte tutte Ma forse è la mia memoria che mi inganna Quindi Boh Anche se avrebbe abbastanza senso Il fatto che Insomma i fossi Appaiono così Cioè non dal nulla Però dico Eh Facciamo un'entrata qui laterale Così E andiamo verso giù Devo scavare Molto giù Quindi vabbè Ci vediamo a frappè Appena arrivo tipo al decimo Ah sì Livello 10 Livello 10 Vi avviso A frappè Allora eccomi qua Sono arrivato al livello 10 Però purtroppo Sono dovuto passare per una caverna E dico purtroppo perché Il mio animo da knob No vabbè non da knob Insomma Mi sono fermato e ho raccolto un casino di roba Non avete idea Quindi devo scaricare un pochino di roba perché non ci stava più niente Tu 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 No non tu Tu And tu Vediamo un pochino Su Vediamo Tu Tre Quattro Ho trovato il force Tra l'altro Ho trovato persino i I veri cosi di gold Non li avevo ancora trovati Quelli Quelli Vanilla Quelli che droppano il cubo Dove sono? Oddio Ah no Adesso vi faccio vedere in pratica Cosa è successo Oh finalmente l'abitudine non mi fa sbagliare Prima andavo verso qua c'era la terra Ah oh Io Io Buttiamo questo qui Questo Tu cosa sei? Emily Cosa servi? Grinder Bah Non so Cosa serve però lo conserviamo Ok No ci facciamo anche il piccone Giusto per Abbiamo degli stick Si Anche la pala Già che ci siamo Così ci facciamo di nuovo tutto il set Così Allora facciamo La cosa Poi la spada Se io faccio così Per il resto Si La spada Di riserva E poi La pala Oh Bellino la pala Va bene Andiamo Anzi Andiamo Sto con voi Perché tanto ormai sono arrivato al livello Sono al livello 17 Ah eccolo qui Eccoli qui Gli ore normali Quelli vanillosi Perché ho preso l'arma adesso che mi sono ricordato Oh finalmente posso finire di prendere anche questo Che non so che cosa Che cosa ho raccolto? Rousy Silicone Cosa servi? Ok Calmi Credo che ci sarà da divertirsi In questa In questo modpack Allora Adesso Finisco di prendere sta roba Ah ecco Altra force Ma mia che bello Mi piace l'effetto che fa Quando si raccogli Invece non mi piace Essere in una caverna così Per un motivo abbastanza Sembice Perché non riesco a fermarmi E quindi raccolgo tutto quello che vedo Anche se so che non mi serve a niente Tipo questo Che non so se ha preso Qualche utilizzo Nella In questo modpack Però prima non ce l'avevo Ok Prendo anche questo No basta 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 Fermi Arriviamo a livello 10 E ci facciamo un giretto Tutto in avanti Come si suol dire Allora Facciamo così 12 O stiamo nell'11 No andiamo nel 10 Eh raccolgo anche questo Ok Ok adesso andiamo sempre avanti Eh Se ci riusciamo Non fermiamoci a prendere la roba Se ci riesco Non se ci riusciamo Eh ma troppo Troppo Sto chiedendo troppo a me stesso Eh redstone finalmente Ecco E' una cosa Una delle cose che ci serviva Ok ce l'apriamo tutta Perché la redstone Oddio Ah ok Sono andato avanti Questo reso spac Che ti mette in automatico Non è che mi piace molto Solo che non Cioè L'ho lasciato perché Credo che ci sia un Motivo per il quale L'abbiamo messo no Non credo che l'abbiamo messo giusto Per la musichetta Della Del livello Vabbè Andiamo avanti Eh Sì Dobbiamo trovare Allora Dobbiamo trovare Innanzitutto altri lapis La Sully Ne avevo già trovato un pochino Ne ho già trovato un pochino Ma non c'eravate Poi sono con Oddio Fermala Poi Poi La lava ci serve La lava ci serve Abbiamo della cobblestone La risposta è no Cioè sì Eh Facciamo Così Che bella Cavallo Mettiamo Questa qui Mettiamo coal Abbiamo del ferro Mettiamo il ferro A cuocere Così ci fa un bel secchiello Qua ci mettiamo No vabbè Non ce lo ricordiamo no Il sulfur Non lo prendiamo Ma neanche l'uranium Volendo Cioè Però adesso non ci serve Andiamo avanti O melma Oh Kaiser Come faccio Devo essere morto Oh cazzo No No Non morire Non morire Non morire Non morire Rigenera 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 Ti prego Ti prego No 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 Devo assolutamente Mettere Il Lattest Lattest Oh mio dio What the fuck Oh merda Oh quanto ti odio Ma potremmo fare che io con un click Oh Ti prego Spaccati Ho capito Devo andare a prendermi Un picconazzo Ma dai Ma che merda Vedi Questa Questa è una delle cagate Che ci sono in questo pack La cosa che Ti mette tutto in una barra Che senso ha Cioè Dimmi Che senso ha Ora mi tocca pure Farmi un altro cacone Vabbè tanto Prima o poi L'avrei dovuto rifare Quindi lo tengo di riserva Che brutto Che brutto Che brutto Questo robo Della Bara Perché mi prendo danno Ok Ora ho due Piconhausen Quanti Eh no Come si faceva Ok Allora Volevo essere attivato Il coso Oh perfetto 1499 193 Eh vabbè Buonanotte Finiamo di usare questo L'altro è nuovo giusto Ah ok L'altro è nuovo Perfetto Kaiser No no Quanta lava c'è La risposta è Molto Molta Ok vediamo un pochino Prendiamoci questa Facciamo un po' di ordine C Eh vabbè One two three Sapevo Che funziona Che avrebbe funzionato Ecco Oh perfetto Grazie Qui abbiamo un bel secchiolosso Di lava Ok poi Cambiamo Invertiamo La rotta Eh ci spostiamo Un po' più a destra Perché vedo Che qua è pienissimo Di lava Ci mettiamo L'osmium Che ci serve Ci servirà Anzi Alla fine Praticamente Come se Questa puntata L'ho fatta Per metà In caverna Per tipo Una decina di minuti Quindi Non ho mantenuto La mia promessa Avete detto che oggi Non la passavo in caverna Eh vabbè Mi dispiace Ma sono stato costretto Dalla sorte Eccomi qua Scusate allora Dove eravamo arrivati Ah si 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 Mi stavo spostando Però c'è lava anche qui Eh vabbè Non in caso Il timer ci ha appena avvisato Che il tempo è finito Anche per oggi Quindi Eh Torniamo a casa Aspettate Prendo questa Questa ledson Perché sapete Qual è la mia droga La mia droga È tutto quello Che si può Tutto ciò che si può raccogliere In una miniere Eh no Perché mi sto rispostando Verso là E tu cosa saresti Mainshafter Mainshaft Mainshaft Come cazzo Come si chiama Allora Fermi tutti Waypoint Eh Non so come si chiama Quindi Mine Eh Rovina Ham Ham Ok Mettiamo una bella torcia E andiamo all'esplorazione Nella prossima puntata Quindi Raccogliamo Raccogliamo Voglio quella Cazzo di cosa Quindi buttiamo la fornace Ci raccogliamo un po' di quest Ok Eh vabbè Andiamo a casa E io vi saluto qui Perché il timer Mi ha appena avvisato Che il tempo è Terminator Terminator Io sono Terminator No Eh Quindi 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 Io sono Spiegaranotto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate anche su Twitter Su Google Plus Sul mio sito Spiegaranotto Punto X10 Punto MX E su Facebook Digitando facebook.com Slash Spiegaranotto Ufficial Io sono Spiegaranotto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo Nel prossimo video Di Techcraft Ciao